Assessore Mascarin, prima pietra per il girasole, la terza struttura che viene inaugurata a Fano in breve tempo, veramente è un fatto eccezionale. Sì, fatto veramente senza precedenti non solo per la nostra città ma anche nel panorama regionale. 254 comuni, solo 6 hanno la gestione di strutture di nido comunali e nella nostra città nel giro di pochi mesi abbiamo avviato i cantieri per 13 milioni di euro per tre nuovi servizi di nido, due sezioni di raccordo Cucurano, tre sezioni di nido Bellocchi e oggi tre sezioni di nido nel quartiere di Vallato in via della Colonna. Complessivamente sono 120 posti che a partire dal 2025 aumenteranno del 40% la capacità di accoglienza nei servizi 03 della nostra città. è una risposta veramente importante per dimensioni senza precedenti che poi ne fanno ancora una volta veramente all'avanguardia anche nel panorama regionale rispetto all'investimento sui servizi educativi. Sessore Brunori, come sarà il nuovo giro tondo? Sarà sicuramente un edificio moderno, bello, accessibile. Parliamo di una struttura che ospiterà 45 bambini ma la peculiarità di questo luogo è che ogni singolo spazio sarà proprio prospicente a quelle che sono le aree verdi, proprio per creare anche questo connubio con quelli che sono ambienti sostenibili, dove i bambini possono sicuramente, che favoriscono il benessere dei bambini stessi. Si tratta di un investimento importante perché parliamo di 1.936.000 euro di cui 300.000 euro sono stati messi a disposizione da parte del Comune, sono investimenti che si aggiungono a un totale di 13 milioni e mezzo che questa amministrazione ha messo a terra realizzando 4 nuove scuole e questa è una risposta importantissima che noi diamo in termini di sicurezza. Sono aree che all'interno ospitano anche luoghi di sonno, luoghi di cucina, luoghi che vengono messi a disposizione al personale proprio per il cambio, proprio per il discorso degli uffici, ma nello stesso tempo che hanno, per essere realizzati, utilizzano dei materiali sostenibili con un impatto ambientale assolutamente attuale. Quando saranno ripresi i lavori qui all'aeroporto? Allora, per quanto riguarda questo investimento deve essere realizzato per scadenza da PNRR entro il 31 dicembre 2025. Ci troviamo in prossimità di un luogo che appunto già ospita i bambini perché è un grande parco dove abbiamo realizzato anche un'area giochi e dove si è costituita anche tutto un anello di ciclabile che appunto mette ancora più in sicurezza non solo pedoni ma anche ciclisti e favorisce la mobilità. All'interno di questo spazio abbiamo avuto un problema con la ditta che appunto adesso stiamo reticendo il contratto proprio per essere autonomi nell'andare a realizzare da soli quelle che sono le ultime attività, quali le panchine, quindi gli arredi e l'area verde.